Siamo tornati in diretta e ci siamo lasciati con la mia domanda, voglio capire che tipo di vita sostenete? La polizia penitenziaria è un lavoro che viene svolto quasi prevalentemente all'interno delle sezioni, l'agente di polizia penitenziaria ha detto quasi sempre, quasi la stragrande maggioranza di noi lavorano all'interno delle sezioni detentive, poi a seconda di quelle che sono anche gli anni di servizio che uno ha, viene indirizzato verso un'area ben precisa, ad esempio per i ragazzi più giovani si va verso una sezione comune, mentre man mano che si acquistano… Cosa vuol dire comune? Sono coloro i quali hanno commesso dei reati comuni, dei reati comuni, sono delle sezioni dove magari si trovano spacciatori, tutti quei reati che hanno affinità poco rilevanti, reati minori, chiamiamoli reati minori, mentre poi man mano che l'esperienza avanza di ognuno di noi, a seconda anche poi delle proprie note caratteriali che il comandante e il direttore ogni anno valutano, viene indirizzato verso un'area diverso, tipo la sezione AS, la sezione AS1, AS2, AS3… Mi può tradurre queste sezioni? Sì, alta sicurezza, alta sicurezza di primo livello, alta sicurezza di secondo livello, alta sicurezza di terzo livello, poi c'è il 41 bis, insomma quelli sono… Ecco, lì c'è un nucleo speciale che si occupa… Quindi quando si instaura un rapporto di fiducia per quanto concerne la professionalità soggettiva, aumenta, mi viene da dire purtroppo anche il rischio personale nell'ambito dell'impiego… Sì, esatto, più bravo sei o comunque più anziano sei, più maturità acquisisci proprio sul campo di battaglia e chiaramente viene impiegato nei posti più importanti, beh ci sono anche ragazzi giovani che dimostrano subito di avere una certa attitudine, vengono impiegati anche in posti importanti quali può essere il block house, la portineria che sono i posti, voglio dire, il punto fulcro dove tutti possono entrare, dove c'è bisogno di una vigilanza importante, la sala regia, la famosa sala regia che si occupa di video, che praticamente è una sala che ha il controllo di tutta la situazione. La bravura si acquisisce con severità il fatto di essere intransigenti o con riuscire a evitare le situazioni di pericolo per se stessi, per i colleghi e comunque non far perdere la dignità al carcerato, perché comunque parlerò anche di questo. Guardi, le posso garantire una cosa, la bravura secondo me si acquisisce quando uno ha volontà di fare le cose fatte bene e fa una scelta netta e chiara e vuole andare avanti, chi più chi meno, come un bambino a scuola alla fine, c'è il bambino che ce la fa ad arrivare a prendere 9, c'è quello che però studia e arriva a prendere 7, l'importante è fare il proprio e farlo bene, poi le capacità chiaramente le dimostra sul campo di battaglia e poi alla fine c'è il premio o comunque vai a ricoprire un ruolo importante. Quali sono le criticità del vostro lavoro? Ad esempio quando vi sentite meno tutelati e meno protetti? Perché noi quando ci siamo incontrati mi ha rimarcato insomma una criticità ad esempio della vostra categoria, prego. Beh, una delle, dove ci sentiamo forse meno tutelati è un po' ad esempio quando uno dei nostri, una nostra scorta deve uscire per andare in un pronto soccorso, dove ad esempio arriviamo e non abbiamo una corsia prioritaria, non abbiamo una stanza o un bunker che ci dia gli stessi margini di sicurezza che abbiamo all'interno anche all'esterno e magari siamo lì alla merced di chiunque, lì ad esempio è una criticità molto importante. Faccio un tonto sempre per far capire a casa, eh, cosa deve succedere in ospedale? Beh, lei faccia presente, facciamo un'ipotesi, un detenuto si sente male, ora chiaramente valutare se si sente male o non si sente male, questo spetta ai medici, noi lo dobbiamo scortare, lo dobbiamo portare fuori, ora se questo detenuto magari sta fingendo e ha complottato già la sua fuga. Questa è una delle nostre criticità più importanti che secondo me dovremmo risolvere al più presto qui a Padova, perché in istituti ad esempio come, io dico Belluno perché a Belluno ci sono stato, ho lavorato sei anni, avevamo un bunker solo per noi, dove noi all'interno dell'ospedale riuscivamo a mantenere gli stessi margini di sicurezza dell'interno anche all'esterno, eravamo protetti. L'idea è che qui a Padova la questione dell'ospedale è spinosa quasi quanto la notizia che è uscita sui giornali in questi giorni del Due Palazzi e quindi riuscire a trovare sia il personale che la notizia preferenziale per quanto vi riguarda, sì è doverosa, lo posso capire, non essendo stupido almeno penso di non esserlo, però complessa, perché proviamo a immaginare, io devo accompagnare un provenzano, adesso la sparo veramente grossa, in ospedale non lo puoi portare al pronto soccorso, in quel caso vengono i medici direttamente. Ok, cioè immaginate io ho proprio fatto il massimo semplice, cosa prendi per qualcosa dalla macchinetta, torno subito, no? No, 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 il problema è proprio quello, se ad esempio capita proprio una S, voglio dire che sono detenuti con una certa modalità da seguire, c'è un protocollo da seguire molto importante, soprattutto quando vengono scortati all'esterno, certo non è facile arrivare al pronto soccorso, magari è purtroppo fare la fila, è purtroppo aspettare lì con questo detenuto sulla barrella, cosa può succedere? È tutto di più, il sabato sera ci sono 70, 80, 90 persone al pronto soccorso, non è facile, e questa è una delle criticità più importanti, poi le criticità interne sono tantissime, tentativi di suicidio che devo dire la polizia penitenziaria qui a Padova ne ha sventati tantissimi, ma ne sventiamo veramente tanti, autolesionismo che vengono prontamente fermati dai colleghi, ma tanti, ci sono tante criticità che noi affrontiamo. Possiamo dire anche il rischio personale poi, perché? Ma il nostro rischio è elevatissimo. No, no, ma parlo proprio, scusate se sono un po' crudele, cruento nell'esempio, ricordiamoci che purtroppo ci sono anche i casi di sieropositività e quando voi dovete intervenire, non è che arrivate completamente bardati e protetti? Ma guardi, non poco tempo fa è successo un caso di tubercolosi che ci ha coinvolti quasi tutti, anche il sottoscritto, purtroppo si è scoperto dopo che il detenuto che avevamo avuto aveva la tubercolosi e siamo stati sottoposti, se non vado errato c'è stata anche qualche positività tra di noi, purtroppo sono i rischi che corriamo tutti i giorni e questo è il nostro lavoro. Ripeto, una delle criticità sicuramente è sempre correlata al fatto salute, o se vanno in ospedale, o se non stanno bene, o comunque le malattie, o comunque questa preponderanza dell'autolesolismo, molte volte questi tagli profondi che si incidono, sangue che arriva da tutte le parti, non è facile, eppure le posso garantire che c'è da parte dei nostri colleghi una professionalità incredibile. Ecco, una cosa alla quale tengo tantissimo sottolineare qui è che si è tanto parlato della Polizia Penitenziaria come indagati, come ho letto di tutto sui giornali, però rimarco ancora una volta, Polizia Penitenziaria però è anche quella che è intervenuta in primis in questa faccenda nelle indagini. Ascoltiamo il direttore dei due palazzi e dopodiché opiniamo un pochino sul direttore, perché io ho fatto una provocazione personale, una domanda, invece lei mi ha spiegato fugando tutti i miei dubbi, allora ascoltiamo l'intervista. Certo, purtroppo è successo questo evento che ormai noi conoscevamo già da diversi mesi, perché la collaborazione, come diceva il signor Questore, risale a diversi mesi fa e oggi siamo giunti alla conclusione dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Questo, sì, ci dispiace, è vero, perché tra di noi abbiamo delle persone che non hanno osservato quello che era il loro mandato, però tuttavia deve essere sottolineato il fatto che noi stessi, unitamente con la Polizia di Stato che ci ha collaborato grandemente, siamo riusciti a colpire coloro che all'interno del nostro corpo hanno dimostrato infedeltà. Queste persone devono essere espulse dal corpo, poi vedremo in un futuro, dipende, intendiamoci se saranno condannate o meno, perché chiaramente la presunzione di innocenza vale per loro come per tutti, però devono essere espunte dal corpo e coloro che restano devono acquisire la concezione che bisogna lavorare, come la maggior parte di loro fa, nell'onestà, nella correttezza e per il bene dell'amministrazione. Ma dunque, prendono troppo poco, per carità, sono stipendi normali, come tutti gli altri, anche nel settore privato, equiparandoli ai pari grado, lo stipendio è quello. No, il problema è che siamo in un corpo così numeroso, siamo circa 47-48 mila persone con la divisa, naturalmente si fanno le selezioni quando si assumono le persone, però inevitabilmente con l'andare del tempo può capitare che vi siano alcuni che tengono comportamenti e stili di vita un po' diversi. Naturalmente, cosa c'è da dire? Per quanto riguarda il disagio è chiaro che sono persone che tutti i giorni di tutto l'anno stanno a contatto con persone che hanno uno stile di vita delinquenziale molto elevato. Ma questo non vuol dire, perché tantissimi altri, direi quasi tutti, non subiscono alcuna alterazione negli stili di vita, nei comportamenti, ricordando soprattutto che indossano una divisa e facciamo parte delle forze dell'ordine dello Stato. Dice giustamente, insomma, direttore, non è perché tu sei accanto a un alcolista che allora devi diventare alcolista, no? Certo. C'era il detto famoso, stando con lo zoppio un parezzo piccato, no? No, no, assolutamente no. Anche perché, ripeto, c'è una divisa e c'è un giuramento fatto. No, ma il dottor Ferruccio ha detto anche una cosa che onestamente mi è piaciuta molto e ha detto aspettiamo chiaramente tutto quello che sarà il corso anche delle indagini, vediamo quali intanto abbiamo comunque tutelato i ragazzi che lavorano onestamente. Certo. Come è stato accolto però sia dalla sigla e anche appunto... La sigla, ripeto, la sigla si esprime chiaramente sempre a favore della legalità, su questo non c'è ombra di dubbio. Chiaramente speriamo, onestamente, che la maggior parte dei colori quali sono indagati, chissà, ne possano uscire magari anche, non dico, non so, puliti, o comunque speriamo che queste indagini portino a qualcosa di meno grave di quello che può sembrare. Adesso aspettiamo di vedere veramente quali sono le verità, perché su questo non saprei cosa aggiungere. Mentre, niente, sono così, sono d'accordo sul fatto che, appunto, come diceva il sottolineo del dottor Ferruccio e come anche il nostro commissario Torres dice più volte, l'importante è farsi il suo, si dice, nel nostro lavoro, cioè fare il proprio lavoro in maniera tranquilla, farlo bene e onestamente, ricordandoci che abbiamo una divisa addosso. Allora io faccio ammenda pubblica perché, sapete che faccio sempre outing, vi dico il mio onestamente, ho detto, ma caspita, ma il direttore come è possibile che non si fosse accorto di niente, sei mesi e mesi e mesi. E invece il professionista mi ha detto, Mignano, vieni giù dal pelo. E quello è stato sorprendente, è stato furbo. Pensare che il nostro direttore non fosse a conoscenza di queste cose, allora è impensabile, come un datore di lavoro, scusate il paragone, che non sa che all'interno della sua azienda ci sono degli operai che rubano. Secondo me, commissario e direttore sicuramente avranno collaborato, suppongo, e saranno arrivati a queste conclusioni insieme e soprattutto sapevano dall'inizio delle indagini. Mettendomi però nei suoi panni, mi sono chiesto, caspita, ma come fai quando ti accorgi che succede una roba del genere e poi da chi vai? Sai, è come quando hai un gruppo di amici di cui tu hai messo e ti fidi ciecamente. Ma come succede negli altri... Ma mi potrò affidare di questa cosa o no? Mi scusi, mi scusi. Come succede in tutti i corpi di polizia, no? Quando all'interno di un corpo di polizia, che può essere militare, civile, militarmente organizzato, qualunque esso sia, se ci sono dei problemi interni, sono loro stessi che se ne occupano. C'è un nucleo che comincia a investigare e a capire che cosa sta succedendo. Ma questo succede in tutti i corpi di polizia. Si comincia a capire, a chiarire, a guardare, a fare... Purtroppo bisogna guardarsi anche all'interno. Ma io, esatto, io me lo aspetto, me lo immagino, che siano quando vediamo i telefilm, piuttosto che o dalla cronaca, sono comunque sempre degli esterni. Invece qui, la peculiarità e la particolarità è che è stato tutto un lavoro interno. Questa è la mia domanda. Come cavolo fai a dire... Gino, ho inventato il nome, Gino però è un amico mio, e adesso come faccio a denunciarlo? A quel punto... E' questo che... Allora, guarda. Ho visto questo direttore praticamente da solo e pian pianino ho dovuto, credo, con il comandante di reparto, insomma, scegliere, questa è la mia marcia, chi lo sa, no, forse tramite i video, tramite tutto quello che avete a disposizione. La premessa che ho fatto all'inizio è stata proprio questa, cioè il comandante Torres, da quello che si è potuto capire, con l'ufficio comando e con il NIC, con questo nucleo di investigazione centrale, che è formato da alcune persone che sono proprio all'interno della reclusione Padova, e che stanno attenti affinché non accada una cosa del genere, e che se accade o sta accadendo cominciano ad indagare. Ah, certo. Bene, allora, noi siamo arrivati in conclusione della prima parte della nostra trasmissione, io devo ringraziare Ignazio Guglielmi, delegato provinciale del SAPE, grazie per averci aperto un po' questo mondo particolare, grazie a voi, anche un pochino la vostra seria professione. Io lancio adesso il meteo come uso nella nostra trasmissione, e sapete che andremo avanti parlando di sovrappopolamento e com'è la vita in carcere, e perché continuiamo a beccarci multe su multe. Ah, tra poco restate sempre in nostra compagnia. Eccoci qua, amici del Triveneto, ben ritrovati da Giuseppe De Vittis. Guardate, tra mercoledì e venerdì, clima piuttosto fresco, correnti atlantiche tenderanno a mantenere le temperature su valori più bassi rispetto al periodo e non escludiamo ancora a tratti della instabilità. Nella giornata di giovedì, sui settori più orientali, quindi soprattutto sui settori costieri, ancora dei rovesci di pioggia, ma queste nuvole tenderanno a sfilare verso est. Quindi poi in tarda mattinata, ma già da metà mattinata, ci saranno delle ampie aperture del cielo. Ma attenzione, soprattutto su zona attorno ai rilievi, nel pomeriggio non escludiamo qualche acquazzone, molto ma molto localizzato. In serata invece situazione più tranquilla, un po' dappertutto, con cielo sereno o poco nuvoloso. Vediamo le temperature minime, stazionare, quindi pochi cambiamenti, vedete anche le massime su valori davvero accettabili per il periodo. Mi fermo qui, amici del Triveneto, un cordiale saluto dal vostro Giuseppe De Vittis. Grazie. Grazie.